Ciao, oggi parliamo di un'altra cosa molto interessante del trasmittore DDS-FM Wave Art. Questo è su MPX. MPX è l'acronimo di multiplexi, quindi il sinale di basebande dell'FM, che generalmente include l'audio signal, il stereo signal e il RDS, generalmente up to 60 kg. Questo signale di MPX può essere ricevuto o generato anche nel trasmittore in IP. Quindi abbiamo MPX over IP. Oggi non c'è un standard reale, abbiamo usato frequenza di 128 kg per seconda con 16 bit di risoluzione. In questo modo abbiamo circa 2 megabit necessari come capacità per trasmittore. Un'applicazione molto importante del trasmittore Wave Art è che puoi usare i link IP molto impensi per collegare i studio con il trasmittore come STL. Il link IP, come Ubiquity, è abbastanza carico. La qualità del link è completamente non comparabile con la qualità di un analogo di MPX. Il trasmittore ha un signale di MPX perfetto, generato da un unità che possiamo produrre, che puoi entrare con la parte e la parte, o con ISABU, o qualsiasi. e abbiamo a usare una stream IP 2 megabit. Ma non solo questo. Non è necessario rigenerare il signale di IP ogni volta. Quindi puoi avere una linea di link IP in cui ritrasmissi il stesso signale, generando solo una volta al principio. E puoi avere la stessa qualità, perfetta, in ogni punto della vostra distribuzione di network, per il trasmittore dei trasmittori di FM. Ovviamente puoi anche usare la fibra per alimentare il vostro trasmittore. L'ultima cosa, il digital MPX, può essere trasferito non solo con l'interfaccia di IP, ma anche con l'interfaccia di ASI. Quindi puoi avere l'output del generatore e l'output del ASI e anche l'input del trasmittore e l'interfaccia di ASI. Il digital MPX over IP, input and output, è tramite il porto DataLand. Ora vi mostro come impostare il generatore MPX e il servizio. I due uniti sono nella stessa network. Nel generatore MPX abbiamo già impostato le input e il RDS. Ora cambiiamo l'addressa di IP del generatore. Ora cambiiamo l'adressa di IP del trasmittore. Nel generatore MPX, passiamo su NpX output. Iniziando il MPX over IP. E inseriamo l'adressa IP del trasmittore, il porto e il PID del trasmittore. e lo appliciamo. Nel ricever, andiamo a input e nella seczione MPX over IP inseriamo l'adresse IP del generatore, il porto e il PID e lo appliciamo. Nel MPX e baseband, impostiamo il MPX over IP come input. Come vedete, il trasmittore inizia la modulazione in Exciter and Audio, Status, potete cercare il status del link. Usando un scannere DEVA band, abbiamo collegato il monitor RF e cerchiamo il signale a 102 MHz. Questo è il signale del MPX e i parametri RDS. Resumendo, abbiamo generato un MPX digital inizio dal signale di input e dal RDS, lo passavano via un link IP ad un altro trasmittore che lo mette in avanti. Questo è un'altra delle funzioni incredibili che potete trovare nel trasmittore WAVEART FM Digital DDS. che si trasmitte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.